Certamente fra tutte le auto usate dal 007 nei suoi film è l'Aston Martin DB5 che è rimasta nel mito e ora l'Aston Martin crea 25 repliche di quest'auto con tutti i gadget ovviamente non funzionanti dell'auto usata dall'agente segreto come mitragliatori e protezione antiproiettili e rostri sulle ruote. Il motore è una replica del 6 cilindri originale 4 litri da 290 cavalli. L'auto ovviamente non si potrà mai immatricolare ma chi se la compra probabilmente troverà i mezzi per usarla. Insomma un oggetto una collezione come tanti. Un giocattolo per grandi, ricchi.